Daniela Milana, responsabile provinciale del coordinamento donne della CGL, un coordinamento che si occupa di quali compiti? Il coordinamento donne ha come obiettivo primario quello di favorire tutte quelle politiche necessarie per giungere alla tanto agognata parità di genere. Ma insomma nel 2022 parlare ancora di parità di genere o di difficoltà della donna nel mondo del lavoro, nel raggiungere vertici della società lavorativa, non sembra un po' anacronistico? Paradossalmente quando ho assunto l'incarico io mi sono fatta la stessa identica domanda. Invece è proprio attualissimo parlare di parità di genere, purtroppo. Sebbene nel corso degli anni numerosi sono gli obiettivi raggiunti, la parità di genere è ancora molto lontana. Soprattutto negli ultimi anni, complice ed effetto anche della crisi economica dettata dalla pandemia, abbiamo assistito proprio ad un degenerare di questa parità, soprattutto in ambito lavorativo. Che poi è l'ambito che mi compete. In ambito lavorativo abbiamo assistito ad una, mi permetta di dire, ad una forma di discriminazione delle donne in ambito lavorativo. Questo perché intanto le donne già erano precarie del lavoro, avevano contratti di lavoro magari non adeguati alle loro mansioni, sottopagate, lavoratrici in nero. Questo non ha consentito loro intanto di essere difese in un momento di crisi ossessiva. Ed inoltre vengono considerate sempre una parte debole perché nel momento in cui ci troviamo dinanzi ad una donna, che nel corso della sua vita maturerà le esperienze anche personali, quindi diventerà compagna, moglie, mamma. Questo anziché essere, mi faccia passare il termine, un valore aggiunto, tante volte è un ostacolo. Viene visto come un ostacolo non tanto alla carriera lavorativa, perché parlare di carriera lavorativa in questo momento è anche troppo, ma è un ostacolo al lavoro. Ma è capitato, capita anche in provincia di Trapani, di trovare datori di lavoro che, tra virgolette, ricattano la donna con frasi del tipo ti assumo però se dovessi andare in maternità e allora perdi il posto di lavoro. In questo caso mi permetto di dire che sì, penso proprio che ci siano di questi casi. Non mi sento di condannare più di tanto, cosa voglio dire? Nel senso che anche il datore di lavoro tante volte si ritrova in una sua crisi economica e quindi un po' messo con le spalle al muro. Poi ci sono situazioni di cattiveria incontenibile che non riusciamo magari a frenare. Sì, quindi anche in provincia di Trapani troviamo di queste situazioni diffusissime. Chi vuole rivolgersi a voi? Che tipo di assistenza date e come può rintracciarvi? Allora, intanto noi abbiamo pensato di passare dalla sensibilizzazione alla concretizzazione di quella sensibilizzazione messa in atto. Abbiamo creato uno sportello che si chiama proprio sportello Donna Lavoro e Diritti che ha sede su Trapani che coniuga un po' l'attività che svolge proprio il patronato inca della CGL e anche il sindacato ma che al suo interno ha anche un pool di assistenti sociali, di avvocati perché si rivolge non solo alle donne lavoratrici e non lavoratrici ma anche alle donne vittime di violenza. Abbiamo voluto, diciamo, riunire tutte le nostre specificità in un unico sportello. Si intende questo che anche sul territorio, cioè una donna di Alcon non necessariamente dovrà andare a Trapani ma potrà rivolgersi alle sedi inca presenti sul nostro territorio e poi magari nello specifico indirizzata se necessario anche a Trapani.